Comincia la grande finale, grande finale, Peng, allora Song hai visto l'ultimo round E' andato a vuoto un calcio in aria che non si capisce perchè, tss insomma, quello rivedrete a video, spiega le regole della grand final, per i nostri amici Allora la leva è, no vabbè però mi rifiuto di fare questa cosa per la quindicesima volta, vabbè, spiegare come funziona la finale Ma tanto non li guarda nessuno sti video di merda, cioè, vada su canali importanti, se anche lo guarda non capiscono quello che diciamo Sì ma lo sai che descende, vuole farci una sezione del suo canale YouTube tutta dedicata a noi? Non sapevo fosse un masochista, soprattutto perchè gli ho passato il video da Baban Paku, ah tra l'altro mi hanno risposto alla mail secondo te Ehm? Ah ero un bait? Vabbè ma dia lì, a power for anzi? Eh, ditelo a lui, però... Qua si parla di... Sì è vero questa cosa che vogliono solo lo spedimento bancario? Un bonifico come pagamento, è un legno, perchè dall'Italia non ce la fai? Ma chiedi a Filippo che ha il contatto che sta in Giappone, chiedi, eh no? Ok, non puoi fare un bonifico dall'Italia posta più di quello che compri, sicuramente anche no, poi è lui che deve comprare Oh, buongiorattissima sta prima partita della maratona Oh, poco ciocco con la mia TV, oh, ho avuto l'ha visto? Ma era tutta combo quella roba lì? Eh sì Ma perché ha dato un pestone alla mia TV, Mizzu? Non lo so, ah è la tua? Eh, infatti dicevo, va che figata, un pestone alla TV, poi ha detto, oh è mia Tanto diresti, ma insomma, chiariamo, questo non era Kipo Non è? Non era una Kipo il corno Ma va Ma comunque ha rotto i coglioni il Toy Strike, non si può più vedere Ma Poi tutta sta gente che prende Yune Oh, io l'ho preso bene prima di oggi E adesso? Minchia, sono scazzatissimo però Una parola per definire il tuo stato d'atmo? Mmm, non so perché sono venuto, sono basito e... No, una parola Due parole a caldo No, no, non ci riesco Due parole a caldo Non riesco a essere ermetico Intanto Peng... Ermetico? Intanto Peng... Avistato? Peng porta a casa la prima partita Ma Peng è il loser, quindi ne devi vincere due set Vincere due set, sì Oh, guarda, ho imparato come funziona sta merda Però che non me ne frega più un cazzo Posso dire cazzo è merda? Sì Io prima avevo bestemmiato Una volta? Eh? Più volte I bestemmi danno fastidio a Togo Sì, hanno anche combo sullo stato Danno fastidio a Togo e a Jimbe Ci sono credenti Anche a Jimbe? Danno fastidio da Dio Oh, scusa Jimbe Non so cosa dire Allora non riguarda i video del 3S, GTS Guarda tutto Ma mica ancora per molto siamo avanti così Vabbè, ma non lo prenderò mai più Yung, quindi T.S Nooo Scusate Sono l'unico che gira personaggi Che prende low tires, mid tires, tutto Anzi, tears Ah, perché devi molto Quelli, i gold tears ce li scordiamo ancora Chun, Yung Beh, ok, ma ho preso anche Necrella un sacco di volte Beh, dunque questa è la quinta, giusto? Si Hai preso Ken, Chun, Yun, Necro due volte Ecco Ti salva a Necro due volte Ma c'è Ken, Chun, Yun C'è comunque il migliore di tutti Dato che voi non lo cambiate mai Vabbè, buoni tutti a girare tra Ken, Yun e Chun Perché a voi non lo fate? Così, perché ci piace vincere con i mid Thai Beh, lui, vabbè, lui è scluso Allora, nel mondo, forse no, aspetta Non nel mondo perfetto, ma in bizzarro world Tutti girerebbero un po' di personaggi C'era più varietà E si vedrebbe chi è veramente più forte Alla prova dei vari personaggi Proviamo a sviluppare dei personaggi invece Che siano almeno decenti Se no, sviluppiamo No, senza riferimenti ai tuoi Ma, nel mio caso, sarebbe inutile Che cambiassi personaggio di ogni rambo Ci vogliono almeno 10-15 anni Oh, intanto lei va di prendere le redini della partita Beh, ognuno ha una storia differente Quindi ognuno poi Capisci? Come dicono i grandi Ha un suo vissuto E da quello Prende un determinato insegnamento Quindi tiene il personaggio Gli TS, lo cambia A Calesta vive un altro mese Lo sapevi? No, quindi abbiamo anche la ramba di novembre La ramba di ice In questo postaccio Ma allora, è più bello secondo te Ramba ice O ice bat Ramba ice Ah, ramba ice Suona molto meglio Ma anche ice bat Peccato che non si possa dire Non si può dire? Vabbè, qua c'è C'è da tagliare 25-30 mega di audio Quante persone darà fastidio ice in Italia? Ah, quelli si dirò positivi Tre Ah, ok Mi hanno detto quali sono le tre persone Ma non ci sono Non guardano i video E quindi TS Ma non dobbiamo essere politicamente corretti Vabbè, ma Fanno dei gesti Comunque Cosa sta succedendo? Che leva La sta portando a casa Visteva Ah, ma la pezzo Qua È velocissima Quasi sta andando Ma dai Ha visto muoversi Alla fine Bravo Oh, Fran Peng, Peng Commento a caldo No, no Niente, niente Ok Peng non commenta Si rifiuta Fran, vuoi dire qualcosa tu? Spero che Non ci siano altre rambazzi così Così come? Così tese Ok Un saluto a tutti